Benvenuti e benvenuti a un nuovo appuntamento di medicina con DNA, la medicina in pillole. In questo primo incontro parleremo dei trattamenti non chirurgici dei nutri tiroidei, ma lo faremo subito dopo la sigla. Bene, ritorniamo in studio. Sono con noi il dottor Lorenzo Scappaticcio, ricercatore di endocrinologia presso l'Università degli Studi della Campania, Luigi Mavitelli, specialista in endocrinologia e ricercatore presso la unità operativa complessa di endocrinologia del primo policlinico di Napoli, diretta dalla professoressa Caterin Esposito. Benvenuto. Buonasera, grazie. Poi ancora con noi il dottor Fabio Civitillo, endocrino chirurgo presso il reparto di chirurgia oncologica alla Orna, azienda ospedaliera di rilievo nazionale San Danna e San Sebastiano di Caserta. Benvenuto anche a lei. Grazie, buonasera a tutti. Infine, ma non ultimo, il signor Michele Di Biase, che è stato il paziente di recente sottoposto a procedura di alcolizzazione, poi dopo ci spiegheranno qual è il termine esatto, che ci parlerà dopo la sua malattia come l'ha vissuta, come è andata, come è successo. Buonasera. Intanto spieghiamo subito che cos'è la tiroide, dove si trova e a che cosa serve. Toro Scappaticcio. Sì, la tiroide è una ghiandola endocrina, è tra virgolette quella più rilevante dal punto di vista clinico per quanto riguarda l'epidemiologia, in quanto è la ghiandola più colpita dalle malattie ormonali. Cioè la tiroide è quell'organo che purtroppo è più frequentemente impattato dal punto di vista patologico in ambito di popolazione, ovvero le patologie della tiroide sono molto frequenti. La tiroide è una ghiandola nota a tutti proprio per questo motivo, perché è un organo che viene interessato da disfunzioni e da noduli. È un organo che noi abbiamo alla base del nostro collo, di solito non si può toccare né tantomeno vedere, soltanto quando è patologico diventa tale. Ecco, che cosa sono i noduli? Sì. Quali sono i trattamenti non chirurgici che possiamo fare? I noduli della tiroide sono la patologia di più frequente riscontro a carico della tiroide. Sono delle formazioni, delle neoformazioni, che addirittura le stime attuali reputano che si trovano nel 60-70% della popolazione generale. Come possono essere scoperti? In generale, nella gran parte dei casi, il riscontro è un riscontro incidentale o un autoriscontro del paziente, ovvero si eseguono delle indagini per altri motivi, quindi delle tacche, risonanze o anche altre ecografie del collo che portano poi alla diagnosi dei noduli tiroidei. Perché magari il paziente non riesce a scoprirli da solo? Di solito no, di solito no. Ecco, come possono essere curati innanzitutto? Sì, per quanto riguarda la prima cosa da fare, come ci dirà poi anche il chirurgo, il dottore Civitillo presente qui oggi, che dipende dalla natura del nodulo. Nella gran parte dei casi i noduli tiroidei sono delle formazioni benigne, in più del 90% dei casi, quindi quando sono benigni l'approccio è diverso da quando sono maligni. Se sono benigni abbiamo dei trattamenti, quando sono benigni e sono sintomatici, quindi danno delle manifestazioni cliniche di tipo compressivo oppure danno di sconforto estetico, possono essere sottoposti a chirurgia oppure a dei trattamenti non chirurgici, che sono oggi il topic della nostra puntata. Del nostro incontro. Dottore Civitillo, invece volevo chiedere che cosa è la chirurgia tiroidea e quale posto occupa oggi nel trattamento dei noduli tiroidei? Allora bisogna innanzitutto partire da un fondamento. La chirurgia della tiroide si è evoluta nel tempo tantissimo, deve cambiare tantissimo quello che è l'approccio, di cui probabilmente stasera stiamo parlando di un approccio importantissimo, perché veramente questa è una tecnica molto importante che nulla toglie alla chirurgia. La chirurgia che ha riscontri antichissimi, il primo intervento sulla tiroide si faceva con un'incisione che si chiamava collare di cocker, così detto, da orecchio a orecchio, fino ad arrivare alla cervicotomia, la minicervicotomia, ma per il disconforto estetico e anche per questioni religiose si è provato approcci per altre regioni. In realtà si vedevano spesso queste cicatrici enormi. Enormi, 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 anche perché all'epoca non c'era neanche una terapia sostitutiva adatta, poi insomma il dottore Scappariccio si spiegherà ancora meglio questo. Per cui si è provato con strategie e con approcci diversi, tra cui c'è la RATS che praticamente prevede un'incisione transascellare, fino alla Toetva che invece è la transorale, cioè dall'interno della bocca per arrivare fino alla tiroide, oppure la Babba che prevedeva invece un approccio di tipo toracico, cioè dal torace. Sono stati tantissimi, oppure la retroaricolare, sono stati diversi accessi, fino ad arrivare a una tecnica che mi sento di dover menzionare, perché è una tecnica brevettata in Italia, che è la MIVAT, la tiroidectomia mini-invasiva, che viene fatta con un taglio di pochissimi centimetri. Naturalmente io credo che il punto cardine della situazione sia non tanto quale tecnica utilizzare, perché naturalmente l'espertise del chirurgo può tranquillamente scegliere e adattare, perché oggi noi parliamo di un concetto fondamentale, cioè della Taylor Surgery, ovvero della chirurgia sartoriale, ed è praticamente campo dell'endocrinologo in primo luogo, e del chirurgo dopo scegliere qual è il miglior trattamento in base al paziente. Cioè non esiste un trattamento per la patologia della tiroide, esiste il trattamento della patologia tiroidea per quel paziente, per quel tipo di approccio, che cambia completamente quella che è stata la visione passata. Tanto è vero che ci spiegherà benissimo il dottore Scappariccio questa tecnica che è utilizzata in moltissimi centri, io penso che il punto cardine sia che i centri devono essere tutti centri ad alto flusso, ovvero centri che si occupano in maniera specifica delle patologie tiroidee, solo così si può dare il massimo supporto. Tant'è vero che l'approccio chirurgico varia in base sia al grado di malattia del paziente e sia in base a quella che è poi la condizione del paziente, la condizione generale, cioè se ha comorbidità, quindi ipertensione, diabete o altre patologie, che possono rendere difficile l'approccio all'intervento chirurgico e per cui le benvengano questi nuovi approcci che danno veramente un grosso vantaggio, come credo che sia giusto che ci spieghi il dottore Scappariccio. Il dottore Scappariccio, allora quali sono le indicazioni, i vantaggi di questi trattamenti non chirurgici? Certo, il dottore Citi ha utilizzato il termine più adatto per questo tipo di terapie, e l'approccio terapeutico deve essere cuscito sul paziente, quindi ci sono casi in cui è necessaria la terapia chirurgica, altrove la terapia non chirurgica. I trattamenti non chirurgici dobbiamo dire quali sono. Innanzitutto c'è l'alcolizzazione, che è la procedura utilizzata come prima linea terapeutica non chirurgica nei noduli cistici di grandi dimensioni, quindi nei noduli a contenuto liquido. Ci sono poi altre due tecniche che invece utilizzano il calore, quindi la laser terapia e l'ablazione con radiofrequenza oppure con microonde. Queste tecniche quindi devono essere utilizzate quando i noduli danno dei sintomi compressivi oppure danno un fastidio estetico al paziente. Quali sono i vantaggi? Non prevedono un'anestesia generale, non richiedono un'ospedalizzazione, non c'è necessità di una, non si esegue una cicatrice chirurgica. Quindi è importante delle donne? Assolutamente sì, infatti sono delle procedure richieste da molte donne quando si tratta di noduli che non vogliono sottoporre ad intervento chirurgico, si fa risparmio sanitario, l'efficacia delle tecniche è un'efficacia ormai collaudata da una quindicina di anni, dodici anni in Italia, ci sono tanti vantaggi. Gli svantaggi ce li deve dire il dottore Cini. Infatti questa è la domanda che volevo farle, quali sono gli svantaggi e i limiti di questi trattamenti non chirurgici? Allora non ci sono svantaggi dedicati a questo tipo di approccio, secondo me è l'indicazione, quella che poi realmente crea il vantaggio al paziente, perché come prima sono andato vicino a questo argomento, volevo proprio chiarire che l'alcolizzazione, piuttosto che la laserterapia o la termoablazione sono delle tecniche altamente efficaci, tant'è vero che ci sono alcuni centri che stanno curando anche la patologia tumorale con i carcinomi, naturalmente l'indicazione è sempre per carcinomi di piccole dimensioni, quindi voglio dire la stretta indicazione, ovvero scegliere dei criteri e seguire esattamente questi criteri in mani esperte, quelli che si occupano di questo tipo di chirurgia, perché ricordo, il dottore Scappariccio sa benissimo, che questa è una cosa che non è contro la chirurgia, ma è a favore della chirurgia, tant'è vero che è un DRG chirurgico, è il DRG per far capire, è l'imborso che la regione lo dà come prestazione chirurgica, per cui sfatiamo il mito che il chirurgo è contro questo tipo di terapia, assolutamente questa terapia ha dei grandissimi vantaggi ed è fatta in mani esperte, perché lo ripeterò fino allo sfinimento, deve essere fatta da persone che sono dedicate a questo tipo di terapia. In mani esperte come la chirurgia tiroidea? Assolutamente, come chi si occupa di endocrinologia ed è in grado di eseguire queste tecniche. Perché poi è così importante? Perché nel ritornare, faccio un passo indietro, a quella che è la tiroide, che si trova davanti a delle strutture importantissime della trachea, che è il tubo che porta l'aria nei polmoni, ma vicinissima la carotide e la giugolare, che sono dei vasi importantissimi, a sinistra abbiamo l'esofago, nonché poi vicino alla tiroide c'è il nervo ricorrente, che è il nervo che serve per parlare, per cui nel collo ci sono alloggiate tutte le strutture nobili, per cui è importantissimo, non solo dal punto di vista estetico, ma anche proprio dal punto di vista funzionale, dare una giusta indicazione, e data la giusta indicazione, secondo me queste sono tecniche veramente importantissime. Quindi anche dal punto di vista compressivo si potrebbe realizzare? Sì, sì, allora perché dal punto di vista compressivo, quando c'è difficoltà, queste tecniche sono capaci di ridurre fino all'85% del volume della tiroide. Poi dipende dalla tecnica usata in particolare, per cui se piuttosto che, voglio dire, la laser terapia, che sembra sia meno efficace sulla riduzione, ma ancora meglio quella a microonde, perché poi di questo si tratta, poter ridurre fino al 35% di una persona che magari ha difficoltà, perché quello che sottolineava il dottore Scappaticcio è l'evitare un'anestesia generale, che comunque fa parte di un percorso chirurgico che ha dei rischi chiaramente collegati a quello che può essere tutto il caso clinico e tutte le comorbidità del paziente. Bene, adesso noi abbiamo annunciato prima, abbiamo con noi il signor Michele Di Piase, che è stato un paziente sottoposto all'alcolizzazione. Ecco, lei come ha vissuto quella sua malattia, se così possiamo dire? Allora... È stato traumatico? Ha avuto problemi? No, per me sto che l'ho scoperto per puro caso, facendo un ecodoppler, ma già precedentemente avevo dei piccoli sintomi, nel senso che avevo pressione alla gola, Ah, compressione? Compressione alla gola, e facendo questo ecodoppler ho chiesto al dottore di parlare sulla tiroide. Ed è stato scoperto che avevo due noduli, uno a sinistra di circa 7-8 centimetri e a destra di 3 centimetri e mezzo. passato il primo momento di... di paura, di... di smarrimento, diciamo così, e il dottore mi aveva detto se fossi lei io la toglierei la tiroide. Il medico curante? No, è l'ecografo che mi ha fatto questa cosa. Ok, l'ecografista. Poi, siccome non mi è successo mai, non sapevo a chi rivolgermi, non sapevo l'endocrinologo a cui rivolgermi, e tramite un conoscente sono andato dal dottor Scappaticcio. Il primo incontro il dottore mi ha detto che dovevamo ispirare, altrimenti dovevo andare a pronto soccorso perché rischiavo di soffocare. Ed era così. Mi ha tolto il liquido e è come se fossi rinato. Beh, certo. Ritotto la compressione, giusto? Dopo 10 giorni ci siamo rivisti con le analisi. Le analisi hanno confermato che la tiroide funzionava al 100%, quindi non era il caso di toglierla. E il dottore mi ha, è stato molto chiaro, mi ha spiegato, dice proviamo questa tecnica dell'alcolizzazione che non sempre con tutti i pazienti può funzionare. Proviamo questa tecnica e poi vediamo. E a quel punto? A quel punto, dopo 4-5 sedute, il problema si è risolto. E siamo qua. Sta bene, buona salute. Io sto bene, non ho più nessun problema e vado solo per controlli così, giusto per sicurezza. Siamo verso la fine, volete aggiungere qualcosa? No, va bene, va bene. Grazie per l'invito. Quindi chiudiamo qui, la nostra trasmissione appunto termina qui. grazie ai nostri ospiti, a Luigi Nappa, la regia, e a voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla. No, no. Grazie a tutti.